Martedì 21 novembre in primo piano nel TGL News tanta cronaca, cominciamo con il regolamento di conti tra due famiglie a colpi di cricche e chiavi inglesi proprio sotto gli occhi dei bambini è venuta a Fiorenzuola a scontrarsi due coppie di fratelli, davvero molta impressione tra i presenti, mentre invece per quanto riguarda i furti che sono avvenuti negli scorsi giorni colpo da 300 profumi e bottino da 10.000 euro in un negozio di articoli sanitari in città e poi anche una donna che è stata denunciata, una piacentina perché in un mercatino dell'usato si è messa, ha indossato una pelliccia ed ha provato a allontanarsi senza pagarla, è stata fermata e dunque denunciata. A proposito di cronaca, le Iene sono salite fino a Ferriere per un fatto dai contorni ancora da chiarire, ovvero una trans ha sostenuto di essere stata licenziata proprio perché è transessuale, dunque c'è questa denuncia che è arrivata da questa trans che lavorava in un pubblico esercizio di Ferriere, se ne stanno occupando anche le Iene, la nota trasmissione di Italia 1. Purtroppo invece dobbiamo registrare anche un caso molto delicato, vale a dire un uomo che ha provato a salvare un'altra persona colpita da arresto cardiaco, purtroppo il defibrillatore era scarico e dunque non c'è stato nulla da fare, la persona colpita da infarto è morta, è accaduta a Brallo di Pregola proprio al confine nella Valtrebbia tra Piacenza e Pavia. Chiudiamo con notizie anche positive, vale a dire due studenti neolaureati dell'Università di Cattolica di Piacenza che sono stati premiati con il riconoscimento il premio Gemelli alla Cattolica di Milano. Complimenti a loro e a tutto l'Ateneo. Tutto questo e molto altro nel TGL delle 19.30 e naturalmente sul nostro sito www.liberta.it www.liberta.it www.liberta.it